Gli uffizi diffusi sbarcano all'Elba e Forte Falcone a Portoferraio potrà diventare una delle sedi che ospiteranno il patrimonio artistico-culturale degli uffizi. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni insieme al direttore degli uffizi Eike Schmitt hanno raggiunto l'Elba e visitato la fortezza fatta costruire come gli uffizi da Cosimo I De Medici. Territorio quello dell'Elba che è legato anche a Napoleone Bonaparte del quale quest'anno ricorrono i 200 anni dalla morte. Come non pensare nel progetto Uffizi Diffusi a questa realtà, il Forte Falcone per opere che magari si riferiscono, quest'anno sono i 200 anni dalla morte di Napoleone, al periodo in cui Napoleone esaltava le arti e quindi la pittura, la musica. In questo caso potremmo dargli il segno di un ricordo della Toscana proprio nell'isola, l'isola d'Elba, dove per poco più di 10 mesi lui rimase nel momento in cui fu esautorato e fu destinato proprio alla sua terra di Toscana. Il progetto è nato per valorizzare il grande patrimonio artistico che giace nei depositi degli uffizi e per mettere in risalto i territori della Toscana. Nel corso di questo sopraluogo è già diventato molto chiaro a me e al nostro staff degli uffizi che qui si può fare qualcosa, qui si deve fare qualcosa, effettivamente qui si farà qualcosa e inizieremo sicuramente con una mostra in occasione proprio del bicentenario napoleonico e poi lo porteremo avanti. Sono almeno 50 comuni toscani che si stanno candidando per ospitare questi uffizi diffusi e la regione sta lavorando ad una legge ad occhi, linea anche con la volontà del ministro Dario Franceschini di togliere le opere dai depositi dei musei.